1948, con il progetto 356 comincia la storia della Porsche AG, destinata a diventare uno dei marchi più prestigiosi in assoluto. Le piccole Porsche, agili e velocissime, fanno subito parlare di sé e alla targa Florio del 1956 arriva la prima grande vittoria. Seguiranno innumerevoli trionfi in tutto il mondo, ma il legame con la Sicilia resterà per sempre. 1965, nasce la 911 Targa, versione speciale della più iconica delle Gran Turismo di Stoccarda, caratterizzata dal tetto rigido apribile, un magnifico omaggio alla celebre corsa siciliana. 1973, per l'ultima volta le strade delle Madonie ospitano il Mondiale Marche. A vincere ancora una volta è la Porsche con la 911 RSR. È l'undicesimo successo assoluto della casa tedesca alla Targa, un record destinato a restare imbattuto. 2014, al Salone di Detroit, Porsche presenta la 911 Targa edizione 991, forse la più bella di sempre, di certo la più fedele riproposizione dell'idea originale, ma con in più il tetto apribile più sofisticato della storia. Un mito che si rinnova. Porsche e Targa Florio, un binomio indissolubile. L'ultimissima edizione della Porsche 911 Targa rinnova ancora una volta il perfetto connubio fra il marchio tedesco e la più antica corsa automobilistica della storia. L'occasione per tornare ad assaporare i celebri tornanti delle Madonie, là dove la casa di Stoccarda ha iniziato a costruire il proprio mito. 72 chilometri di saliscendi mozzafiato da affrontare con l'impareggiabile prontezza di risposta della sua celebre trasmissione PDK a sette rapporti. A completare il godimento puro provvede il suo sei cilindri boxer da 400 cavalli, sorprendentemente docile e parsimonioso guidando il surplus. Ma basta richiedere tutta l'esuberanza di cui è capace per salire in un'esaltante progressione in un crescendo d'adrenalina pura. La scheda tecnica della 911 Targa 4S appare dunque un miracolo di ottimizzazione. Conciliare un'accelerazione da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo con un consumo combinato inferiore ai 10 litri per 100 chilometri appare un risultato davvero impressionante. Le mitiche strade delle Madonie rese ancor più insidiose dall'incuria restano un temibile banco di prova per qualsiasi supercar. La nuova 911 Targa è pronta per un nuovo esaltante giro. 50 anni di tradizione nel segno della sportività non sono passati in va.